La squadra approcerà alla prossima partita con fiducia, con il piglio di una squadra che sa che è una partita importante e di conseguenza ci prepareremo al meglio traendo anche quello che di buono c'è stato oggi al di là del risultato che è stato particolarmente pesante ma che comunque, ripeto, ha lasciato anche delle indicazioni positive. Al di là di tutto la squadra è entrata nel primo quarto d'ora e secondo me è entrata con un piglio davvero importante con gli stessi giocatori creando i presupposti in almeno due situazioni importanti per fare il 2-2 poi è normale che il calcio è fatto di episodi e la punizione di Cristiano con la bravura di un singolo la Juventus l'ha riportata sul 3-1 ma la squadra ha dato dimostrazione di credere nella possibilità di acciuffare questo pareggio e ha creato dei presupposti importanti mettendo in serie a difficoltà la Juventus. Ma allora la partita è stata una partita dove ci ha visto soccombere dopo tre minuti con un'ottima giocata di Dybala ma secondo me con superficialità nostra perché secondo me abbiamo dato troppo spazio a un giocatore della sua qualità e di conseguenza andare sotto allo stadium per 1-0 dopo tre minuti per una squadra come la nostra in questo momento non era affatto facile riuscire a fare la partita che dopo abbiamo fatto perché nonostante il gol di quadrato il Torino oggi è venuto qui allo stadium a giocarsi la partita a viso aperto mettendo secondo me anche in difficoltà la Juventus i dati ci dicono che la squadra ha fatto più possesso palla della Juventus che ha tirato in porta 17 volte allo stadium e di conseguenza non si può secondo me non denotare una buona prestazione che ci fa uscire con un risultato secondo me bugiardo troppo pesante per quello che si era visto in campo. Dal punto di vista della qualità del gioco penso che siamo in buona crescita e abbiamo ripetuto una buona partita dal punto di vista tattico abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel rimanere compatti e corti però questo ci sta gioando di pomeriggio che la stanchezza arrivi un po' prima e dia qualche difficoltà in più alla squadra a salire e scendere la palla e allungarsi un attimino in più abbiamo un certo spazio in più del solito fra le linee, fra la linea dei centrompisti e la linea dei difensori sta una reazione di nervosismo a rigore la squadra pensava ad avere in mano la partita si è trovato all'ultimo secondo del primo tempo invece sopra solamente di 2 a 1 negli spogliatori c'erano all'inizio dell'intervallo molti giocatori arrabbiati quindi il compito principale era quello di cercare di riportare le menti a quello dovevamo fare e non a quello che era successo in quell'ultimo minuto poi lo sbandamento di inizio del secondo tempo fortunatamente non è stato molto lungo io penso che davanti a questi giocatori hanno certi numeri che hanno fatto certe cose hanno segnato un'epoca e bisogna fare come abbiamo fatto noi dello staff e tutta la squadra a fine partita poi parole, tutti in piedi e applausi questa è stata l'accoglienza e Buffon la trovavo negli spogliatori e penso sia l'unica cosa da fare senza spendere tante parole perché di fronte a queste carriere, a questi numeri non c'è bisogno di spendere tante parole grazie